Prosegue spedita la somministrazione dei vaccini sulla categoria cosiddetta degli ultrafragili, ovvero i pazienti definiti dall'articolo 3,3 della legge 104 e dei relativi caregiver, ossia le persone che si prendono cura con assidità di queste persone. Vaccinazione in corso nel Terramano all'ospedale Mazzini, nell'area Fiera di Paolo Antonio, a Sant'Egidio, a Giulianova, nella sala polifunzionale Pioppi, all'ospedale di Atria, al Palasporte di Pineto. Di questa categoria in provincia ci sono 2.040-20 diritto con altrettanti caregiver, operazione che dovrebbe essere completata in circa due settimane. Sì, diciamo, stiamo intanto lavorando sempre sugli oltreottantenni perché, insomma, è una categoria che va preservata, ma devo dire che stiamo a un buon punto, con percentuali di vaccinazione sopra il 65% a livello regionale, a livello, poi, diciamo, percentuali un po' diversi da territorio e territorio, però mi sembra che è un'ottima percentuale. Abbiamo iniziato gli ultra fragili, i disabili, che stiamo vaccinando in queste ore, un po' su tutto il territorio, insieme ai loro caregiver, e quindi, insomma, proseguiamo seguendo le indicazioni del Ministero. Dal punto di vista tecnico, come funziona per i caregiver per fare la domanda? I caregiver sono già registrati sulla piattaforma, comunque noi adesso in questa fase, quando, diciamo, chiamiamo, convochiamo il disabile, convochiamo anche il suo caregiver. Tutti i caregiver i cui disabili sono stati già vaccinati verranno chiamati subito dopo, quindi invito anche gli stessi a stare tranquilli, che verranno vaccinati tutti, vaccineremo tutti nel giro di qualche settimana, per cui, diciamo, grande tranquillità e quindi, diciamo, la vaccinazione di questa categoria, insieme ai loro assistenti, verrà completata nel giro di qualche settimana. Per ogni paziente corrisponde un solo caregiver? Dipende un po' dalle categorie, perché per l'associazione per i ciechi i caregiver sono due, così come per i down i caregiver sono due.